La disciplina di bilancio La disciplina di bilancio paga, come direbbero gli inglesi, o rende, impone sacrifici dolorosi ai cittadini, richiede a volte scelte penose e difficili, ma alla fine rende. Non tanto perché non violando le regole di disciplina delle finanze pubbliche si evitano sanzioni dai mercati o dalle stesse istituzioni europee, ma perché si arriva ad un punto in cui si possono fare nuovi interventi che richiedono risorse pubbliche senza mettere a repentaglio la sostenibilità degli equilibri finanziari. La disciplina di bilancio non è un inverno che gela ogni politica di crescita, è la base solida su cui costruire una crescita sana e duratura.